Sette articoli, quote rosa e sistema elettorale. Prende forma il nuovo disegno di legge promosso dalla regione siciliana, che punta per l'ennesima volta a ripristinare le province con elezione diretta da parte dei cittadini. L'obiettivo, come è noto, è quello di bloccare le elezioni di secondo livello, già indette dalla stessa regione per il prossimo 15 dicembre. Un mezzo pasticcio che non poteva non creare malesseri e polemiche non soltanto tra maggioranza e opposizione, ma pure all'interno degli stessi gruppi di maggioranza. A quanto pare il neo DDL prevederebbe un consiglio provinciale composto da 25 consiglieri per i liberi consorsi con una popolazione fino a 400.000 abitanti, 30 per quelli con una popolazione maggiore, 35 consiglieri fino a un milione di abitanti e 40 oltre il milione. Si andrebbe al voto con lo stesso sistema elettorale usato fino a 11 anni fa, ma con l'aggiunta delle cosiddette quote rosa, sia nella composizione delle liste, sia nei posti da assegnare in giunta e in consiglio. Presidenti e consigli provinciali resterebbero in carica 5 anni. Se verrà approvata, la legge regionale permetterà di andare al voto già in primavera 2025, ma bisognerà capire se e quando ci sarà una modifica normativa anche della legge nazionale del Rio, per cui il Parlamento romano continua a non prendere decisioni. A spingere per l'elezione diretta è soprattutto la democrazia cristiana, con il leader Totò Cuffaro che ha già dichiarato che la Sicilia, in tal senso a potestà legislativa esclusiva. Più fredda Forza Italia. Per l'ex assessore regionale e attuale deputato europeo Marco Falcone, sostanzialmente si dovrebbe procedere per come previsto, ossia con le elezioni di secondo livello, e teme che su questo DDL la maggioranza possa andare incontro ad una figuraccia. Stessa direzione per il Movimento 5 Stelle. Per il Partito Democratico, il centrodestra preferisce votare una legge palesemente incostituzionale, per dar vita ad un nuovo contenzioso e rinviare ancora una volta le elezioni. Si tratta di un blef.